fa parte della nostra storia è un elemento di continuità tra il nostro passato e il nostro futuro è un po come sentirsi a casa e lancia ci piace definire lancia un marchio progressive classic classic perché molto legato alla sua splendida storia lunga più di un secolo ma progressive perché guardiamo al futuro con grande ambizione proprio come un architetto vincenzo lancia prima di tutto si preoccupa di creare un'auto che fosse una casa sicura per le persone per lancia stare bene in auto è davvero molto importante è importante quanto la tecnologia le prestazioni o lo stile pensate ad aurelia o aurelia b24 spider la fulvia la tema sono tutte auto molto raffinate ed eleganti anche negli interni perché questo fa parte della nostra tradizione una tradizione che vogliamo rinnovare per creare il nostro nuovo modo di concepire l'accoglienza a bordo delle nostre auto lancia non avezzi va dritto sulle cose concrete vuole costruire un'auto in cui ci sia più spazio per l'abitacolo e meno per il vano motore quasi un luogo da abitare ampio e confortevole sentirsi accolti come in una bellissima e raffinata casa italiana ecco questo è quello che vogliamo fare auto simbolo dell'eleganza e dello stile italiano come la flaminia l'ammiraglia per eccellenza l'auto che è diventata la vettura del presidente della repubblica italiana i materiali i dettagli la cura degli spazi la sensazione al tatto tutto questo è pensato con una filosofia artigianale le sedute concepite per ospitare per far stare le persone più comode auto sensoriali auto che puoi sentire che creano un rapporto di benessere fra le persone che ospitano e le cose che si muovono e sono in relazione fra loro le forme i colori la luce siete mai saliti su una splendida lancia degli anni 50 60 sembra davvero di sedersi sul sofà di un salotto pensate alla beta hp e e alla pura hp e come vedete davvero un percorso molto coerente certo si ispira al passato ma guarda al futuro con grande coraggio sono vetture modernissime all'avanguardia e che interpretano l'auto in modo diverso più ampio del termine e dello scopo di spostare persone in lancia passato e futuro si intrecciano continuamente la tecnologia è più semplice umana più intuitiva i materiali lo stile e l'accoglienza degli interni ti fanno davvero sentire a casa e innovazione design si incontrano per creare il nostro futuro